La consigliere, la consigliere partano, successivamente consigliere la Eriza, perché bene, sono un'opportunità tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, ciò che non si trompa, perché è in manico, ma vale, fondante, e la legge di lanciare anche il, e la legge di lanciare. Ciò nonostante si decide di voler procedere, ovviamente il Partito Democratico non si dirà fuori da questa volta, perché potrebbe sembrare cosa è messa e che non è così. E qui dicevo tutta la parte, tutta la parte. Troppo, vedete, io penso che si dice il sindaco che è un bravo nessuno, si dice il sindaco in ultimi tempi, che dice non può che più uscire, si dice che c'è qualche prestità di ragionamento, se è il manovratore e poi il manovrato, se fa parte della legge oppure no, io penso che in qualche manovra c'è un po' quello, era una brava nessuno, però, mentre di più gli altri, che vediamo di fronte a tutti, ma dal primo giorno, dal primo giorno che siamo partiti, vediamo che man mano l'anna del sindaco Cascola, che è di pezzo a un po' la strada, domanda, io voglio, ho un'intervista dalla Cascola, subito dopo la sua elezione, una domanda semplice, la parte di cui ha dato una risposta semplice, sui ritroverimenti che lui avrebbe assunto un punto con la sua, con la sua pietra, lui richiede una risposta semplice, in primo progetto di città, c'è di fare una partita, ma io ho dato il senso della mia città con voi, l'auto che in genere usa il sindaco su una perdita, non toccare, la provvede con un'altra dei due utilizzati, questa è l'asma che è riuscita alla parte di una curata, allora, che la verità, che la verità, che la macchina, che la macchina, la macchina non si può prendere perché c'è un hitting, questa è la verità, poi, in tanto, io sono, visto che il Dino, nella mia città è il muore, i consigli di macchina, io sono i consigli di macchina, come le dici, la verità è che la verità è che il Dino è che il Dino è che io non so quale è il dato che io lo dico, ma in proprio il caso, questa è la risposta io, la macchina è acquistita in fine e quindi non si poteva cambiare, ciò nonostante, ciò nonostante ciò nonostante, ciò nonostante, ciò nonostante, ciò nonostante, ciò nonostante, una promessa che aveva fatto il sindaco, era pagliato, e l'avete dato un pochino, di cariassi, però non è che la verità, e cosa è che la verità è che la prima, 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 si percorrò un po' semplicemente citare il servizio ovvio per dire che cosa è l'anta e che il Dino è che lo cazzo, è l'anuncello, che dice una cosa che non, che non pensava. bene, noi abbiamo deciso di votare contro, diciamo, pubblicamente, ma tecnicamente, c'è la possibilità che, davanti dell'amministrazione comunale, di una inversione di retrella rispetto alla gestione stessa del denaro e del denaro pubblico, abbiamo visto i dodici, i dodici staffiti, di cui abbiamo un capo, un capo Stato, che è un capo Stato, che nel momento in cui si è, in un momento di lucidanza, in un momento di, perché vedete il passaggio da parte del governo centrale, perché si imponeva alle amministrazioni pubbliche di dover tagliare i posti, in un momento in un momento di lucidanza, forse si stava pensando di eliminare il dirigente della debo santo dei titoli. Guarda a casa, il passaggio di cui il dirigente da capo, a partirei, per terra, non si è voluto minimamente discutere. Trattate, il dirigente da me al suo posto, questo è un dato, che è incontruzante, sta lì, anche sapendo che non è fidolare il peggio, anche sapendo che lo stesso uomo potrebbe essere il corpo, tranquillamente, non va bene da l'altra, d'altra persona. Agli amici di noi di Attino, che riconosco politicamente tutta la volontaria, riconosco tutta la realtà dei controlli dell'amministrazione, ma dei controlli dei cittadini che mi hanno votato. Dico, mentre in questa intervista parla al sindaco, l'altra città, al primo, avrà un assessorato del scendamento, o il pro sindaco, per istituire la figura del pro sindaco, oppure una notifica staturata. Nel demone, al primo, avrà un discorso, con un giugno delegato, o con distendi potenti. Ma più che una sicura, gli attivisti, gli attivisti che sono servizi e strutture, ufficio, un'ambiente, scuole qualificata. Liceo ha avventato, per evitare che gli attivisti vengono mandare i nomi di scuole in una proprietà, ma in generale tutte le scuole del territorio dovranno imprezzo a essere a norma. Tutte le scuole del territorio, anche in vendita, non c'è per la tenenza di poterla sussare le altre, dalla palestra della media, Kinder. Vedete, se potete sussare fatti, io non so di che cosa stiamo parlando, di comunicarvi che nell'ultima ora perché ci saranno rimanati giusti, perché ci saranno difficoltà giuste di rappresentanza del proprio territorio, e ci saranno acconti ancora una volta postarati, postarati. Questo è lo stile che avete e che avremo sempre in giugno a tutti. Questo è il modo che questa amministrazione ha trattato prima con il capito democratico, poi con i suoi bottiglieri, i bottiglieri esati, con lo stesso identico sistema, sempre e comunque facendo ragionamenti spetta ai quartieri a parte della in maniera postarata. Allora dico, il sindaco Castora che inizialmente aveva l'Anna generina, l'Anna che ladrava la persona, l'Anna che si concentrava sul ciclo presso e questione dei cittadini. Lungo la strada di Santa, purtroppo, devo cosa dare da qui il nostro valore, il nostro distenso totale che con poche di questa amministrazione ha perso un anno popolare cittadino. Grazie. Grazie.